I'm falling, tell me why I'm falling, oh life's calling, but it's hard because I'm falling, I'm falling, tell me why I'm falling. E per sostenere il mio canale mettete un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per sapere sempre quando escono tutti i miei nuovi video. Ed eccoci quindi di nuovo insieme cari amici dopo il breve stop dovuto a problemi tecnici che ho avuto perché il mio vecchio computer ha improvvisamente deciso di abbandonarmi. E quindi ho avuto bisogno di un po' di tempo per rimettere insieme tutti i programmi, tutte le cose che avevo nel vecchio computer e ho dovuto per forza di cose interrompere. Ma l'importante adesso essere di nuovo qui per continuare il nostro cammino lungo la logica della logica. Ed oggi io vi presenterò il trentaduesimo codice della logica della logica intitolato La saggezza forza della legge e così recita La saggezza va usata con logica, in questo sta la più grande saggezza dell'uomo, nello scegliere bene la sua ricerca nella vita. Se usi la conoscenza in modo logico, le tue parole saranno rivestite di ragione e le tue argomentazioni saranno cristalline. Stai lontano dai pazzi e dai vociferanti che vogliono imporre una religione, un dogma o una conoscenza. Non seguire queste guide cieche solo perché indossano una veste bianca sul corpo. Se le guardi bene queste guide cieche, vedrai che sono cadaveri che indossano un abito nero sotto la veste bianca. E se tu dici la verità in base alla tua conoscenza, ti crederanno per la logica della tua parola, dei tuoi discorsi, non per la tunica che indossi. È già chiaro che la logica della logica non è la squallida logica della filosofia con i suoi sillogismi e la sua dialettica che conduce alle forme più distorte della ragione. È la conoscenza della luce che siamo e delle tenebre che cessiamo di essere, il manuale di mutazione e resurrezione che solo l'uomo di chiara e onesta ricerca potrà realizzare applicandolo alla sua vita. Quest'uomo speciale, che è già presente su questa terra ed è al bordo del suo ultimo risveglio, è colui che si veste di questa logica universale. Quella stessa usata da Gesù e per la quale i suoi argomenti erano diafani, potenti, irrefutabili per l'oscurità che mai avrebbe potuto ingannarlo con le sue trappole dialettiche. La saggezza della creazione scaturisce dal cuore dell'uomo come fonte fatta parola e rompe tutti i modelli di pensiero della ragione nel mondo. Stupisce gli uomini la cui anima riconosce ciò che è vero quando lo vedono. Questo era il caso di Gesù quando parlava, perché la gente lo riconosceva, non dalla tunica che indossava, ma proprio dalla logica potente delle sue parole. E quando Gesù terminò queste parole, la gente si meravigliava della sua dottrina, perché li ha istruiti come uno che ha autorità e non come gli scribi, così come scritto in Matteo 7, 29. È lo stesso con coloro che incarnano la logica della logica. Ora, tu che studi la logica, guardala agire e confrontala con la dialettica del mondo che non può confutare la sapienza della legge, e perciò cerca di distruggere chi la ottiene. E così come è scritto in Matteo 12, 9, 14. Andato di là, venne alla loro sinagoga. Ed ecco, uno aveva la mano secca, e chiesere a Gesù per accusarlo. È lecito guarire di sabato? Egli rispose loro. Quale uomo di voi ha una pecora, e se questa cade in una fossa di sabato, non la afferrerà e la solleverà? Quanto è meglio un uomo di una pecora? Perciò è lecito fare il bene di sabato. Poi disse a quell'uomo, tendi la tua mano. Egli la stese, e gli fu restituita sana, come l'altra. E quando i farisei uscirono, tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Vedete, volevano distruggerlo perché possedeva l'intelligenza della logica universale che loro non avrebbero mai potuto sconfiggere. Perché la loro furbizia e stupidità di fronte alla legge? Come testimoniano questi episodi del Vangelo? Ed ora me ne racconto un altro, quello famoso dell'adultera. Allora gli iscrivi ai farisei gli portarono una donna colta in adulterio, e mettendola in mezzo gli dissero Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio, e nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Allora cosa ne dici? Ma questo dissero per tentarlo, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinato a terra, scriveva per terra con il dito, e siccome loro insistevano, si raddrizzò e disse loro Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei, e appoggiandosi di nuovo a terra, continuava a scrivere. Ma costoro, udito ciò, accusati dalla loro coscienza, uscirono uno per uno, cominciando dal più vecchio all'ultimo, e rimase solo Gesù e la donna che stava in mezzo. Gesù alzatosi, e non vedendo altri che la donna, le disse Donna, dove sono quelli che ti accusano? Nessuno ti ha condannato? Ha detto, nessuno, signore. Allora Gesù gli disse, neppure io ti condanno. Vattene e non peccare più. Questo episodio è tratto dal Vangelo di Giovanni 8,11 E questo splendore del Cristo rifletteva in Lui la logica della logica vivente, la stessa che oggi vi viene presentata in questi semplici codici, come conoscenza eterna, proveniente dai troni e dalle potenze, preparate perché anche voi siate come Cristo, perché Lui stesso ha avvertito che saremmo stati come Lui. In verità, in verità vi dico, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche Lui, e le farà ancora più grandi, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli lo farà, perché il Padre venga glorificato nel Figlio. Giovanni 14,13 E la logica è la lampada posta sul vostro e sul nostro cammino, genuini cercatori di verità, di luce, della conoscenza delle leggi universali divine, che ci rendono perfetti come Cristo è perfetto. Ogni parola di questi codici porta in sé stessa la forza del pensiero madre, del pensiero divino che ha ordinato nella perfezione tutte le cose create, la vita, lo spirito, le anime, la materia, è tutto ciò che ancora non conosciamo. La logica sfugge alla dialettica ingannatrice delle filosofie del mondo, perennemente confutabili e sempre in contraddizione fra di loro. Tutto è vero e tutto è falso, dipende dal semplice punto di vista. Un'opinione senza valore in assoluto, una posizione scolastica, politica, ideologica, che lascia il tempo che trova perché è immersa nel perituro, nei cambiamenti repentini del mondo con le sue regole finite, destinate al cambiamento. La logica, invece, è iscritta nell'infinito e nell'eterno, che regge tutta la vita di tutti gli universi, e viene dalla mente suprema, con la sua semplicità, bellezza, chiarezza. Essa è un dono a disposizione di ogni uomo e donna sulla Terra che voglia accoglierlo dopo aver abbandonato la falsità degli insegnamenti dottrinali di questo pianeta in cui è modellata la faccia mortale ed umana delle volontà di dominio e manipolazione. L'uomo ignorante, vizioso, pervertito, amante del potere, dimostra che l'uomo di questo mondo falso non è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio, così come vi insegnano le loro religioni e le loro dottrine, create su misura per le loro smanie di dominio, per sviare l'uomo dalla vera ricerca interiore che lo conduce alla fonte e lo rende non più manovrabile, non più facente parte dell'esercito dei servitori e manutentori di questo sistema demoniaco, il cui ultimo scopo è rendere felice ed armonica la vita sulla Terra, anzi, il cui scopo è inesistente. L'uomo diventa come Cristo e come Dio quando si libera dalle tele di ragno delle falsità di questo mondo e dei suoi valori effimeri che mai conducono l'uomo a salire lungo la scala evolutiva che il Padre ha predisposto per ogni uomo dell'intero universo. Quando si è reso capace di tolleranza, di assenza di giudizio, di perdono, di comprensione, di compassione ed ha acquisito la saggezza che questa conoscenza porta con sé, l'uomo allora può salire lungo quella scala. La mente che utilizza la logica della logica forma una nuova struttura e come ci insegna questo codice ragiona con la stessa potenza del verbo con cui Cristo insegnava, con la stessa forza capace di penetrare in ogni cuore e in ogni mente, per quanto ancora arretrata sul cammino della conoscenza. E nella mente che usa la logica, ogni risposta si connette direttamente col pensiero delle potestà e dei troni, lo stesso che appartiene ai fratelli celesti che ci portano i messaggi metafonici. E dunque in tal modo sparisce ogni dogma incomprensibile, creato da mente umana e funzionale solo a scopi umani e fallaci, e in questo spazio di semplicità divina, di coerenza e di bellezza, sorge la splendente verità, che non ha bisogno di precetti, di liturgie, di offerti e sacrifici, che parla la semplice lingua del cuore per connettersi con il Padre, che nella sua infinita saggezza e conoscendo le imperfezioni della sua creatura che per ora ha scelto Barabba e continua a sceglierlo, ha messo se stesso nel posto più inaccessibile da ogni male, ovvero nel cuore della sua creatura fragile, immerso nella spazzatura morale di questo mondo, con la speranza che questa creatura, una volta risvegliato dalla logica della logica, possa raggiungerlo e finalmente riprendere il magnifico cammino della sua evoluzione spirituale. Per i cuori pronti, per le anime sveglie, è la cosa più naturale del mondo riconoscere questa verità pura, pulita, scevra da tutte le sovrastrutture umane, come è l'unico linguaggio parlato da Dio per ordinare in armonia tutte le cose e tutte le sue creature. E qui sta quindi la saggezza a cui tutti noi dobbiamo conformarci, piano piano, giorno per giorno, in modo da rendere la nostra vita il prezioso strumento che ci ha concesso questa facoltà, che ci ha concesso questo privilegio di diventare i conoscitori delle leggi divine che reggono l'universo. E questo codice ci ha dato un insegnamento molto importante, insegnandoci come la logica in realtà ci conferisce anche un potere, il potere di poter parlare con autorità, perché è un parlare talmente semplice, puro, pulito, che non può essere attaccato, che ha in sé questa logica ferrea, che è propria delle cose divine, che è propria dell'ordine divino e del linguaggio di Dio. E io ogni volta che vi lascio un codice della logica della logica, in cuore mio spero sempre che voi possiate poi durante il giorno, durante il tempo che avete a disposizione, riflettere su di esso, possiate elaborarlo anche secondo i vostri codici di comprensione, quindi farlo vostro, metterlo proprio all'interno della vostra vita quotidiana. Perché io sono convinta che questa conoscenza non può restare solo una teoria, essa deve entrare nella nostra vita, deve trasformarci, deve trasformare i nostri comportamenti nella nostra vita quotidiana, altrimenti l'abbiamo conosciuta inutilmente. È così come dobbiamo fare anche con gli insegnamenti che ci portano anche i nostri messaggi metafonici, quelli che per esempio anche adesso vi voglio fare ascoltare. Che la Terra sia al bordo di un grande cambiamento, che questa umanità sia veramente alle porte di un grande cambiamento che ci è stato annunciato già tantissime volte, ormai lo sappiamo tutti, c'è stato annunciato, lo stiamo vedendo, quindi ne prendiamo atto, ma dobbiamo anche prendere atto che è proprio la presenza di questi fratelli celesti sulla Terra che sta generando questo cambiamento, è la loro entrata nella nostra dimensione, così come ci dicono in questo messaggio. Si entra di lì, si cambia, dirà. Quindi il motore del cambiamento principale è un motore invisibile, è nell'azione che questi nostri fratelli stanno compiendo, in queste azioni che stanno compiendo, per far sì che questo sistema malato, marcio, corrotto, possa finalmente sgretolarsi davanti ai nostri occhi. Ma se questi fratelli tengono a qualcosa veramente è che la maggior parte possibile della gente possa diventare consapevole della loro presenza in questo momento accanto a noi, in questo momento difficile che stiamo vivendo, e vorrebbero che tutti noi che conosciamo questa verità e questa realtà potessimo comunicarlo anche agli altri, proprio gridandolo. Voi lo sapete che tante volte mi dicono questa parola, no? Mi dicono vai, grida, perché come Gesù diceva la verità va gridata dai tetti, e questa è la meravigliosa verità che questi fratelli ci stanno portando. Quindi la loro esortazione è a diffondere non solo i loro messaggi, ma proprio la realtà della loro presenza in mezzo a noi. E infatti il messaggio è così che dice Quindi parlate, parlate anche voi che sapete di questa verità. Se trovate un buon campo in cui buttare il vostro seme, buttatelo questo seme, perché sicuramente ve ne sarà reso riconoscimento, perché è un'opera, è la più bella opera che noi umani possiamo fare, quella di portare consolazione, verità, una prospettiva diversa che oltrepassa la nostra misera visione materiale. E così come sta tornando la bella estate, e così tornerà la bella stagione anche per la terra, anche per l'umanità. E questo è un annuncio di grande bellezza, di grande gioia. E loro vengono a dircelo in questo modo. Va, giù tornerà stagione. Quindi come dire, vai a dirlo, vai a dire che qui la stagione dell'amore, la bella stagione tornerà, quella stagione dell'amore che mi piace ricordare ci aveva regalato Franco Battiato che è scomparso da poco e che io ammiravo veramente moltissimo, un grande maestro. Quindi questa stagione dell'amore tornerà e sta qui, alle porte, veramente alla portata delle nostre mani. Dobbiamo solamente resistere in questo momento, perché in poco tempo vedremo cambiamenti che nemmeno avreste potuto immaginare. E quello che tutti noi vorremmo per vedere questo cambiamento, piano piano, avvenire davanti ai nostri occhi, è appunto l'onestà, questo valore che oggi sembra scomparso dalla terra, perché intorno a noi, soprattutto tra coloro che ci governano, vediamo solo corruzione e quindi disonestà, disinteresse per il giusto, per il bello, per il vero, disonestà per l'amore diciamo che avrebbero dovuto avere nel prendersi cura dei loro popoli. E quindi l'onestà è quel valore che tutti noi vorremmo vedere instaurato di nuovo sulla terra. Proprio questa onestà, ci dicono questi nostri meravigliosi fratelli, sta arrivando, arriverà, è qui, è a portata di mano. E così ci dicono. Già sente? Va onestà? Senta, va onestà. Ma sente bene? Mi dicono, senti bene? Vi diciamo che va l'onestà, arriva l'onestà, sta arrivando. Ed è quella virtù che sarà l'antidoto all'egoismo che ci ha portato in questo stato miserevole, che ha provocato tutto questo disastro sul pianeta Terra e che ha fatto sì che quel progetto di armonia, di amore e di bellezza che Dio aveva previsto per questa Terra non sia stato mai messo in atto, proprio perché l'egoismo umano, stimolato dalle forze oscure che dominano questo paese, ha preso il sopravvento su tutto. E quindi è proprio l'onestà, la spada che deve venire ad uccidere, per così dire, metaforicamente, tutto quello che invece la disonestà ha sparso su questo pianeta. E voi che mi seguite sapete benissimo che queste entità che ci portano questi messaggi si siano definiti angeli molte volte, ovvero siano quelle entità altissime che non noi conosciamo come angeli e che la nostra immaginazione, la nostra iconografia ha voluto raffigurare con ali e vesti bianche. In realtà non è così. Sono angeli in quanto sono messaggeri, sono considerati appunto coloro che dal trono divino portano i messaggi sulla Terra e lo hanno sempre fatto, durante tutte le epoche. Noi ritroviamo queste figure in tutte le culture, nelle culture anche più antiche del mondo. E non solo nella religione cattolica, non solo nelle tradizioni giudaico-cristiane. No, noi li ritroviamo dappertutto. Ma in realtà sono uomini, sono uomini evoluti, come vi ho detto tante volte, che abitano spazi interstellari e dimensioni diverse. E hanno avuto la possibilità, diciamo, di conoscere direttamente il padre innominato, il creatore. Sono a contatto quotidianamente con lui e questo ha provocato in questi che, un tempo erano uomini come noi, questa grande evoluzione, questa grande elevazione spirituale, questo grande senso etico che cercano di trasmettere oggi anche a noi. E sono quindi coloro che fanno parte degli eserciti celesti. Sono quindi anche, come vi ho detto tante volte, dei combattenti. Non sono solo degli angioletti con le piume che suonano l'arpa. Assolutamente, queste sono assurdità che dobbiamo toglierci dalla mente. Sono uomini poderosi, potenti, la cui potenza scaturisce proprio dalla loro grandissima elevazione spirituale e morale. E quindi riconfermano anche nel prossimo messaggio che loro sono amici, che sono gli angeli e sono nostri amici. E sono qui per aiutarci. Ecco qua vidangeli. Amici di là. E venga di lì. Un bellissimo messaggio, una dichiarazione sempre di vicinanza e di amicizia, come già ci ne ho portato tante volte e quindi dicono, qui vi da questi messaggi, ve li danno gli angeli che sono amici e quindi mi esortano ad andare sempre. Mi dico venga di là, venga a registrare perché noi continueremo a portarvi questi messaggi. Ed è importante per loro anche che noi possiamo capire che già il bene è sulla terra. Non dobbiamo solo aspettarlo nel futuro. Il bene è già qui e sta già operando. Perché se noi consideriamo le cose a livello individuale, in ognuno di noi, in ognuno dei nostri cuori, il bene è presente, il bene c'è già ed è già, diciamo, nella nostra vita di tutti i giorni. Ma non solo. È presente anche proprio a livello collettivo, proprio grazie all'azione di questi nostri fratelli che stanno facendo sì che il bene si imponga definitivamente sul male di questa terra. E quindi ci dicono in questa maniera. E va già, si dire, giulà? Bene, li hanno. Li fingere, eh? Voi mi perdonerete. Io cerco di rendere la loro musicalità come posso. Non sono... Non riesco quasi mai. Ma è solo per far comprendere il senso della frase a coloro che non guardando il video non leggono, diciamo, la frase scritta. Quindi per fargliela comprendere bene. In poche parole loro ci dicono, voi pensate che noi siamo qui a fingere? Non stiamo fingendo? E veramente vi diciamo che il bene è già lì sulla terra. Devo dire che stiamo cominciando a vedere questo castelletto di carte piano piano, piano piano venire giù abbattuto dai colpi della verità che sta salendo a galla. E con l'ultimo messaggio voglio condividere con voi la conferma che tutti questi mezzi di luce che si stanno mostrando in tutto il mondo, altro non sono che le schiere celesti. Ce lo dicono loro nel prossimo messaggio. E dicono così. In navi su schiere lì già là. Non confere il sanno. Quindi io vi ho già esortato altre volte a non credere a quello che stanno cominciando a dire no perché vogliono far passare queste presenze extraterrestri che non hanno più potuto tacere e soprattutto dal Pentagono hanno dovuto confermare la presenza di questi mezzi con tecnologie incredibili nei nostri cieli. Quindi hanno cominciato però a dire che sono cattivi come quelli dei film di cui Hollywood ci ha riempito la testa per tanti anni proprio per lavarci il cervello e farci apparire questi nostri fratelli come cattivi, come alieni aggressivi. Che ne so, si sono inventati i polpi che succhiano il sangue della terra, si sono inventati i vermoni enormi che escono dal deserto. Hanno inventato di tutto, lo sapete bene, quindi al di là del divertimento che un film di fantascienza ci poteva dare, poteva dare alle persone, però c'era dietro la volontà di innestare nella testa delle persone l'idea che questi angeli liberatori che vengono per distruggere proprio il sistema che ha creato quei film e tutto il sistema Hollywood, che appunto questi nostri fratelli fossero malvagi e adesso hanno cominciato a dirlo, stanno cominciando a dire che sono una grande minaccia, io ve l'ho già detto. Quindi non cascate anche in questo, stavolta tenete un pochino gli occhi più aperti e cominciate a ragionare con la logica della logica e quindi con la vostra testa, sapendo già che tutto quello che questo sistema vi comunica è per il 95% falso e per l'altro 5% funzionale ai loro interessi e non ai nostri. Quindi questo ultimo messaggio ci ha voluto chiarire ancora una volta che invece in questi mezzi di luce altro non è, non ci sono che le schiere celesti, le schiere di Cristo, quelle che ormai da millenni conosciamo con questo nome e che aspettavamo sinceramente, perché come sappiamo sono loro soltanto che potranno sconfiggere le forze delle tenebre che oggi posseggono il pianeta e la vita di tutti noi e ci tengono in pugno. Noi tante volte dovremmo chiederci come è stato possibile che tutto questo possa essere accaduto sulla Terra con la complicità stessa degli uomini, perché altrimenti se noi avessimo scoperto questo gioco, se avessimo seguito il messaggio cristico veramente già da molto tempo ci saremmo liberati senza magari scomodare questi nostri fratelli. Va bene, ma così è, così è andata, si vede che anche questo è servito per allenare tante anime a riconoscere il bene, a rifiutare il male, no? È servito anche a questo, proprio perché se non avessimo conosciuto il male non avremmo potuto scegliere il bene, forse scegliere il bene non avrebbe avuto nessun merito per nessuno di noi. Bene cari amici, io sono molto contenta di aver ripreso, quindi spero di poter continuare quotidianamente come ho fatto fino ad ora a portarvi un codice nuovo e finisco qua per oggi questo video. Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!